Mi chiamo Baldassare Agnelli, sono la quarta generazione del gruppo Agnelli. Il gruppo Agnelli nasce nel 1907, mio nonno Baldassare Agnelli inizia l'attività a Bergamo nel 1907, poi viene continuata negli anni 30 da mio padre Angelo, quindi noi negli anni 70 e oggi mio figlio Angelo porta avanti la fabbrica. Produciamo pentolame professionale in alluminio, rame antiaderente e serviamo tutti i migliori ristoranti del mondo. Qui abbiamo riprodotto dove ci troviamo una specie di riproduzione della fabbrica degli anni 20, anni 30, ci sono macchine significativi di quegli anni, mentre sopra abbiamo un centro di formazione dove facciamo cultura sul giusto utilizzo dei materiali e delle forme. I materiali che attualmente utilizziamo sono l'alluminio, che è un ottimo conduttore di calore, quindi ottimo per la cottura. Naturalmente le forme e le misure rispecchiano la cultura e la tradizione della cucina italiana, quindi non abbiamo voluto modificare né le forme né le misure, in quanto i cuochi le considerano ottime per le loro preparazioni. L'unica cosa che è variata in questi ultimi anni sono ad esempio le macchinature, che le facciamo in acciato di incossidabile in modo che non essendo conduttore di calore non scottano, è stato migliorato il packaging e la finitura. Naturalmente oggi sono nati tantissimi altri materiali, tipo i di metalli, che sono abbinamenti tra alluminio e rame, alluminio e acciaio, quindi anche questi sono stati presi in considerazione e fanno parte della nostra produzione. Diciamo che sono similari in quanto non abbiamo voluto turbare quello che erano le forme, le misure, le cose. Senz'altro sono finiti magari meglio, però la consistenza è sempre quella di una volta e ci teniamo anche che sia così. Noi abbiamo un sito su internet che si può consultare, qui in fabbrica c'è sempre aperti a qualsiasi richiesta di gente che vuole venire a trovarci. Abbiamo degli agenti anche all'estero e quindi su internet, il nostro sito potete trovare i nominativi di chi richiede. Noi abbiamo un sito potete trovare, Noi abbiamo un sito potete trovare,